Nuoro almeno in questi primi giorni sembra aver assorbito bene la chiusura delle due gallerie di Mughina e Prato Sardo, determinata venerdì mattina perché per le strutture è scaduta la proroga che ne consentiva l'utilizzo in deroga alle enormi antincendio fissate dal decreto del Presidente della Repubblica numero 151 del 2011. Se ieri si è registrato qualche disagio, come dal resto tutti i lunedì, non c'è stata la paralisi del traffico che si temeva, poche code all'ingresso della città, qualche rallentamento, ma niente di particolarmente preoccupante. Anche se visti i precedenti ci si poteva attendere una giornata di grandi problemi agli ingressi della città con un volume di traffico notevolmente aumentato nelle vie del centro. La vera prova del 9 si verificherà in occasione delle prime piogge con i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale, specie in prossimità degli orari di apertura e chiusura delle scuole e degli uffici. Oggi la situazione sembra ancora sotto controllo. Le immagini registrate stamattina mostrano un aumento del traffico, specie in uscita nella zona di viale della Resistenza e di via Don Bosco, ma niente di particolarmente significativo. Resta comunque il disagio per gli automobilisti della provincia non solo, che hanno la necessità di raggiungere l'Ogliastro, la 131, e che utilizzavano le gallerie di Mughina sulla 389 e di Prato Sardo. Il comune di Nuora a marzo aveva chiesto all'assessorato ai lavori pubblici della regione un finanziamento di 3.940.000 euro per la messa a norma delle due gallerie, una richiesta caduta nel vuoto e che ora diventa pressante, perché a lungo andare la chiusura delle due strutture creerà gravi problemi alla viabilità dell'intera provincia. A preoccupare in particolare la situazione della galleria di Mughina, che da anni viene regolarmente chiusa in occasione delle prime piogge, che anche d'estate costringe gli automobilisti a viaggiare con i finestrini chiusi per evitare che la cortina di gas di scarico provochi problemi ai passeggeri.